Musica Scissioni, ripensamenti, cambi di rotta, tutto avviene nel PD e non solo alla ricerca di una nuova sinistra. E la base, cosa pensa? Musica Buonasera Sicuramente la formula progressista di Pisapia personalmente io l'ho accolta con molto piacere. Spero che nelle battaglie politiche che nei prossimi mesi dovremmo affrontare, seppur nella divisione arriviamo in qualche maniera compatti e forniamo un gruppo che possa in effetti combattere quello che è la costituzione di un centro-destra e l'avanzamento di Brillo perché questa compagine oggi a parer mio non fa altro che favorire una destra, quella xenofoba, quella razzista che avanza e un Movimento 5 Stelle che è sotto gli occhi di tutti, almeno a Roma, in una fase proprio di decadimento unico. Oggi mi pare che il proporzionale sta guidando alcuni di questi compagni che sono usciti perché è un conto stare in un partito e contare nulla, un conto ad uscire e pensare di ricattare da fuori perché nel momento in cui si cerca una maggioranza quel 4, 5, 6% che riusciranno a raccimolare avrà un senso. Una strategia per contare di più da fuori secondo lei? Ma secondo me sì, anche perché questa è tutta gente che ricorda che in questo paese c'è chi ha governato l'Italia con l'8% dei voti. Basta ricordarsi i Graxi e Compagnia Bella e questa gente che già c'era. Come ha detto Veltroni l'altro giorno nell'Assemblea, la sinistra ha un compito fondamentale, quello di non essere minoranza. Ha un dovere, anzi ha detto, e questa è la cosa più giusta. La sinistra non deve essere minoranza perché altrimenti il fatto che noi portiamo avanti i diritti dei più deboli, perché ci crediamo, eccetera, allora è un discorso minoritario. Ci sta bene stare sempre all'opposizione perché la sinistra, quella che adesso stiamo vedendo al di là del PD, è una sinistra da prefisso telefonico, diciamocelo sinceramente. È il più grande suicidio politico della storia. Te ne vai, è giusto, io voglio un partito nuovo, io andrò dove non ci sarà D'Alema. Se c'è D'Alema di là io sono dall'altra parte, no io taglio. D'Alema cosa ha fatto di sinistra? Fa tanto l'uomo di sinistra. Ma che significa essere di sinistra? Io dobbiamo andare a tutti i compagni qui. Buon sabato, bentornati a Coffee Break. Che vuol dire essere di sinistra? C'è una sinistra a sinistra del PD? C'è vita in questa sinistra? E quanto può raccogliere in termini di consensi tutto quello che è a sinistra del PD? Insomma, sono qui dei temi che discuteremo oggi. Saluto Nicola Fratoianni. Neosegretario di sinistra italiana, anche sinistra italiana dal congresso fondativo di Rimini mi pare però abbia subito una mini scissione. Perché chi faceva capo a Scotto, che è l'attuale capogruppo alla Camera, ma anche a Dattore, ha scelto una linea diversa dalla linea invece di Fratoianni. Partiamo da qui intanto. Sì, per la verità non ho ancora capito che lì ne hanno scelto. Adesso faccio molti auguri a Roberto Speranza, fuoriusciti dal PD, che hanno credo fatto una scelta comunque coraggiosa, come tutte le volte che si decide di intraprendere un'altra strada, e che spero sia sempre più delineata attorno a un progetto politico, a una piattaforma comprensibile per il Paese. Perché noi abbiamo detto la settimana scorsa al nostro congresso fondativo, e stiamo dicendo ininterrottamente in questi giorni una cosa semplice e allo stesso tempo un po' complicata per quello a cui la politica italiana ci ha abituato negli ultimi tempi, cioè che è necessario ripartire dal merito delle questioni, proposte, tentativo di dare qualche soluzione ai problemi del Paese, alla crisi di questo Paese, perché questa è l'unica cosa che interessa le persone, molto di più del posizionamento, degli scenari, delle formule un po' astratte. Invece la politica in questo Paese da molto tempo discute di questo, di alleanze, di spazi. Però le posso dire una cosa, la dimaricazione maggiore è nell'appoggio all'attuale governo, il governo Gentiloni? C'è anche questo o no? Noi in Parlamento siamo all'opposizione, siamo all'opposizione per ragioni di merito, perché questo governo, e non sono stato io a dirlo, peraltro se non ricordo male, l'ultimo ad averlo detto è stato proprio Bersani, è una copia sbiadita del governo Renzi, che fa le stesse cose. Dunque noi siamo all'opposizione di questo governo, siamo, per parlare di una cosa molto concreta, che ha a che fare anche con un'altra vicenda, quella dei referendum della CGL, di cui lo ricordo noi continuiamo e lo faremo ogni giorno in Parlamento, a chiedere la data. Noi siamo l'unica forza politica sinistraliana che ha presentato una proposta di legge in Commissione Lavoro, una proposta di legge in una riga, abolizione dei voucher. Adesso io mi propongo, mi aspetto e spero che su questa proposta di legge, anche col nuovo gruppo parlamentare, si possa trovare una convergenza. A proposito, diciamo, di un tema che agita molto il mondo del lavoro, quello dei voucher che ci ha già detto, mi dice altre due, ovviamente sotto forma di slogan, due cose che intercettano i bisogni reali del Paese, come diceva lei. Quali sono? La prima serve una misura di sostegno al reddito. In questi anni la crisi e le politiche che ne hanno aggravato gli effetti hanno prodotto un aumento pazzesco della diseguaglianza e c'è una fetta sempre più grande di popolazione che è condannata alla marginalità, all'esclusione e alla precarietà. Quindi un intervento generale di sostegno al reddito. Secondo, noi siamo di fronte a una condizione che ha a che fare con la crisi, ma anche con le occasioni che vengono dall'innovazione, per esempio dall'innovazione tecnologica, dall'automazione, che produce una restrizione crescente dello spazio del lavoro. Lavorano poche persone e più di prima e una parte maggiore della popolazione che è senza lavoro. Io credo che sia arrivato il momento di tornare a discutere di riduzione dell'orario di lavoro. Segnalo che in Francia, nel partito socialista francese, non proprio nella sinistra radicale, c'è un signore che ha vinto le primarie, si chiama Amon, con alcune proposte, tra le quali quella di ridurre l'orario di lavoro a 32 ore settimanali. Quando in Italia, molti anni fa, un partito proponeva rifondazione comunista, io ne facevo parte, allora la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore sembrava una cosa da pazzi estremisti. Ecco, oggi in Francia il partito socialista francese si ricolloca su quel terreno, perché di fronte, per esempio, all'innovazione dell'automazione, che non è per me un nemico, io non sono di quelli che dice l'automazione, impediamola, anzi, è un'occasione che va accolta, dico però che oggi va ridistribuito il lavoro e il reddito, altrimenti banalmente non ce la si fa. Buongiorno Maria Teresa Meli, allora io voglio chiederti e voglio capire, perché i temi indicati da frato gli anni sono i temi della discussione generale, non sono solo i temi di sinistra italiana, tutti dicono, Orlando annunciando la sua candidatura, l'altro giorno dobbiamo sentire il Paese, riparlare col Paese, al di là poi di tutti i problemi interni. Al di là del fatto che il Paese forse non vuole parlare con loro. E questo pure è un elemento da tenere in considerazione, hai ragione, dico a parte poi la tempistica, congresso o non congresso, il voto eccetera, però si dicono le stesse cose, c'è questo distacco tra la politica e il Paese e quindi bisogna intercettarlo, interpretarlo e trovare le soluzioni che mi pare la cosa più importante. E allora in che cosa, le differenze dove stanno dal tuo punto di vista? Le differenze, allora diciamo, nei tre gruppi di sinistra che si creeranno al di là del PD, che sono Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista e questo nuovo gruppo che a un certo punto prenderà il nome fatto dagli scissionisti di Sele, dagli scissionisti del PD, sono tre. E il campo progressista di Pisapia non lo metti dentro? Il campo progressista di Pisapia non è dentro la politica delle poltrone, è un'altra storia, perché peraltro, se no è troppo complicato, se no bisognerebbe spiegare, quelli che se ne vanno via dal partito di Fratoianni si divideranno poi fra chi sta con Pisapia e chi sta con D'Alema, perché Pisapia giustamente, essendo che vuole fare, avere un futuro politico, poi non si metterà con i vecchi residuati bellici del PC, PDS, DS e quello che è, e quindi farà un'altra storia. Ci sono tre gruppi a sinistra che forse avranno due e mezzo, il 3% ciascuno? Secondo me dovrebbero interrogarsi su questa cosa, su questa cosa suicida di dividersi, non contare assolutamente nulla, quindi non portare avanti nessuna delle loro battaglie. Cioè perché lo fanno? Allora quelli che sono in Parlamento lo fanno perché vogliono le poltrone, cioè i scissionisti del PD pensano di avere le poltrone... Cioè di avere maggiori chance presentandosi non all'interno del PD. No, sì, perché pensano che Renzi non gli darebbe le poltrone e quindi così ce le hanno. Quei scissionisti del partito di Fratoianni, da sinistra italiana, alcuni per questo motivo, altri perché effettivamente pensano che la sinistra ancora così rabbiosa, chiusa, che non abbia un rapporto con il PD. Beh, insomma, Pisapia è un signore che vuole avere anche un rapporto col PD. Sì, diciamo, col PD attrazione renziana, diciamocelo francamente, no? E però sono tutte cose politiche, io non so poi quanti umani veri seguono tutte queste vicende, perché secondo me alla fine si perdono, si rompono anche le scatole e votano Grillo. Se gli umani veri provassero a parlare in un altro modo, forse si interesserebbero. Io ho parlato di cose concrete, per esempio vorrei sapere che ne pensi, ho parlato di proposte concrete che parlano ai nomi del paese. Io non faccio politica, io dico semplicemente che è una forza che aspira ad avere il 3%, però invece di commentare con le poltrone il 3%, perché poi le percentuali le daranno gli elettori e le elettrici, quindi lo vedremo, quindi lo vedremo, ma il punto è che rispetto ad alcune proposte concrete mi piacerebbe sapere che cosa se ne pensa, perché altrimenti la discussione, Andrea ho finito, resterà sempre quella lì, una discussione di cui alle persone non frega niente. Pisapia vuole parlare col PD, quelli la poltrona, quello lì, ma il merito della proposta politica può tornare a essere l'oggetto della discussione pubblica? Beh, lo sarà, io immagino per esempio che il referendum della CGL sarà un oggetto di discussione politica. Quando avremo la data del referendum? Allora facciamo così, pubblicità, e poi dobbiamo sentire, saluto Marco Rizzo, il segretario del Partito Comunista, e saluto Massimiliano Panarari, che di cose e di comunicazione politica se le intende come. A tra poco. La sinistra, quando si è divisa, ha fatto male a se stesse e al Paese, e questa è la verità. È stato proprio questo, nel tempo, il demone della sinistra. La malattia è di natura politica e ridurla ai caratteri delle persone è una scorciatoia facile, come lo è cercare personalizzando i capri espiatori di una sindrome ben più profonda. C'è una cosa a cui tengo particolarmente. Combattete sempre l'idea che in questo Paese la sinistra sia obbligatoriamente minoranza. Perché se lo è, allora sono minoranze alle ragioni dei diritti, della giustizia sociale, delle libertà di scelta. Sono minoranze ai più poveri. Per questo, fosse anche solo per questo, la sinistra non può permettersi di essere minoranza per scelta. Non ne ha diritto. La sinistra democratica deve coltivare l'obiettivo di conquistare consensi ampi in virtù della forza, della radicalità e della coerenza della sua proposta. E consentitemi di dirlo con affetto e con un sorriso, non sarà con la parola d'ordine della rivoluzione socialista che questo accadrà. Da tempo sono allarmato per la bulia della sinistra, di fronte alla fase di più grande sconvolgimento storico che la nostra generazione abbia conosciuto. Tutto si sta rivoluzionando, il modo di lavorare, di distribuire la ricchezza, di sapere, di comunicare, di essere in relazione, persino di stabilire rapporti tra le persone. La precarietà è diventata il segno devastante di esistenze appese. Le tecnologie riducono lavori e la formazione è ancora non diventata cuore sociale e culturale della sinistra, non prepara al nuovo, non educa ad un mondo che la politica stessa sembra non capire e non interpretare. E questo era l'intervento accorato del primo segretario del Partito Democratico, Walter Veltroni, domenica scorsa all'Assemblea del Partito Democratico, il demone della sinistra. Chiediamo cosa ne pensa di tutto questo sollecito Marco Rizzo, che è il segretario del Partito Comunista Italiano che ha attraversato le tante stagioni della sinistra. Condividi, c'è questo demone, come dice Veltroni? Forse c'è dal punto di vista personale. Adesso io credo che noi dobbiamo cercare di capire cosa sta accadendo. Intanto la politica oggi conta molto meno. E quindi contando meno diventa molto più misera. Prima la grande politica nel dopoguerra politica ordinava i destini dei paesi. Oggi i destini dei paesi sono decisi altrove nei grandi gruppi economici e finanziari. Il presidente cinese va negli Stati Uniti e incontra prima Zuckerberg di Facebook e poi va da Obama. La Apple si rifiuta di dare i dati crittografati dei suoi smartphone all'FBI. Sono cose che 30-40 anni fa erano impensabili. Detto questo dobbiamo anche cercare di capire che la politica contando poco interviene poco. Oggi secondo me le ragioni di un cambiamento epocale, di merito, ci sono tutte. L'innovazione tecnologica ci consente di produrre molto facilmente i prodotti con pochissimo lavoro. E allora le strade sono due. O si concentrano le ricchezze nelle mani di pochissimi, ed è quello che sta accadendo, oppure si fa un altro tipo di società dove il lavoro viene ripartito, dove le ricchezze vengono ripartite, perché si potrebbe fare. Oggi è possibile. Se tu stai dentro questa ipotesi di politica sei fottuto, penso per uno che vuole cambiare la società. D'Alema è uno che negli ultimi 30 anni è stato l'artefice della mutazione genetica prima del PC e poi della sinistra, scoprendo il neoliberismo, scoprendo le privatizzazioni. Tutti quelli che se ne vanno dal PD sono tutta gente. Io ero un ragazzo, ma stavano dall'altra parte quando noi cercavamo di difendere il Partito Comunista e loro volevano cambiare. Loro volevano il PDS, stavano con occhetto. E adesso, detta proprio in soldoni, perché se ne vanno? Perché non hanno i posti, perché vorrebbero fare le stesse cose che Farenzi, ma non sono loro a farle. Questo è il disastro oggi della politica. Veltroni, l'abbiamo sentito, ma qua c'è gente. Veltroni non è che ce l'ho con le persone, ci mancherebbe una cara persona. Veltroni è uno che ha detto che non è mai stato comunista. Era il direttore dell'unità. Ma chi l'aveva messo lì? Fassino. Diceva, io non so mai... L'hanno scritto. Noi non siamo mai stati comunisti. Ha detto solo Veltroni. E io ero una scritta alla sua FIGC e posso testimoniare che Veltroni era vero. E quanto riguarda Veltroni è vero. Non lo so, ma nel senso che io ero comunista. Poi uno può anche cambiare idea, ci mancherebbe. Però dico, se uno è comunista, non è che sei comunista quando il Partito Comunista ha il 30% e poi quando il Partito Comunista, come dire, non tira più, non sei più comunista. Io vorrei farti una domanda di merito che collega quello che ha appena detto Rizzo a quello che diceva Frato Ianni prima e poi arrivo da Massimiliano Pagani. Poi solo una cosa sul merito. Io sono rimasto molto colpito da due cose. Da quella intervista ai militanti... Sì, nel circolo del PD. Non ce n'era uno che parlava dei grandi temi. Sembravano tutti politologhi, potevano stare seduti qua con noi. Questi sono militanti di base. E questo è il dramma della distruzione culturale di quelle sezioni, di quel patrimonio. E il secondo è un'affermazione che faceva prima Nicola. Che c'è una percezione della politica sempre più lontana... Esatto, è un'affermazione che faceva prima Nicola. Cioè, in Francia, il candidato socialista francese, che non ha alcuna possibilità di vittoria, tira fuori i temi importanti. Peccato che poi, quando vincono i socialisti, quei temi se li dimenticano e finiscono per governare a fare... E che non vince mai il sinistro di amore. E vabbè, adesso... Ci sarà anche un motivo interrogato anche su questo. Però voglio chiedere una cosa. Perché siccome si citava il lavoro, no? Industria 4.0, la robotizzazione, l'automazione. Dice Fratoianni, noi di questo dobbiamo parlare. Perché questo sta togliendo posti di lavoro e sempre di più ne toglierà. Cosa che anche Rizzo sottolineava. Quindi, veniamo alla questione. Renzi, per esempio, il PD di Renzi dice, no, l'industria 4.0, no? E' molto importante, è importante... Facciamo un esempio. Ieri era all'aeroporto di Fiumicino, con i lavoratori all'Italia. Ormai lì ci sono 40 contratti diversi, 40 situazioni diverse. Ci sono giorni di chiudere all'Italia e di proteggere. Allora, all'Italia, cosa fa? L'hanno privatizzato sta l'Italia, no? E tutte le volte hanno sempre piccato dentro soldi pubblici. Tanto quanto fosse stata nazionalizzata. Perché avrebbero continuato a buttare. Alla fine... Con la differenza che gli amministratori delegati che hanno sempre fallito si sono fatti una barca di soldi. I diritti dei lavoratori, la compressione dei diritti, è terrificante. Se tu andate all'aeroporto di Fiumicino... Soprattutto rispetto ai diritti che avevano prima l'Italia, che erano privilegi e non diritti. Ma andate, ieri eravamo con gli operai che scaricano e caricano gli aerei. Vi assicuro che sono delle condizioni incredibili. No, ma io quello che voglio chiedervi è siccome le persone vogliono le ricette... L'aeroporto di Fiumicino. Dividiamo l'orario di lavoro, no? No, e io dico ad esempio lì nazionalizziamo l'Alitalia, finalmente chiuso, affidiamola ai lavoratori. Chiudiamola, chiudiamola. L'hanno chiuso, se l'Alitalia viene chiusa, arriva Ryanair. Lo sapete che all'aeroporto di Roma ogni atterraggio di Alitalia costa 900 euro e quello di Ryanair costa 300 euro. Perché la Ryanair deve pagare 300 euro l'atterraggio? Voi sapete che in Ryanair i diritti dei lavoratori sono schiantati, le tasse non le pagano e vieni questo paese. Perché l'Italia sceglie questa gente qua? Perché oggi, diciamo così, la prima compagnia strategica in Italia è Ryanair e non Alitalia? Perché? Perché l'Italia ha fatto una serie di cavalli. Perché l'Italia ha fatto un'altra puntata su Alitalia. Perché è sempre una partita di giro delle stesse persone. Devo chiedere una cosa a Panarari. Allora, la prima cosa è questa. Si è detto per molto lungamente che il sentiment di questo paese è di centrodestra e non è di centrosinistra, diciamola così. Dal tuo punto di vista pensi che sia ancora così? Sono misurazioni naturalmente un po' complesse, però in generale il sentiment di quelli che sono i vecchi stati nazioni europei e anche degli Stati Uniti in realtà sono sostanzialmente di centrodestra. Poi ci sono delle fasi di interruzione quando la sinistra riesce a proporre un progetto di governo o riesce a scardinare una serie di mentalità e a quel punto intercettando un pezzo di elettori che non sarebbero naturalmente di sinistra riesce ad andare al potere, riesce ad andare al governo. Quindi in qualche modo c'è una resistenza o una serie di tradizioni, di elementi consolidati che fanno sì che è l'elemento della conservazione e in realtà anche l'idea di perdere naturalmente diritti o di perdere disponibilità di salario. È un elemento in questo caso comprensibile assolutamente di conservazione. Quando questi elementi sono molto radicati, per l'appunto, e succede il più delle volte, il sentiment è un sentiment che porta a votare per delle forze che consolidano o garantiscono questa cosa. E vediamo se ci aiuti su questo. Perché prima Fratelli dice, io mi sono scocciato di parlare di scissioni, di roba di politichese, rapporti di forza, io voglio parlare dei temi reali, ha fatto degli esempi. La Meli giustamente diceva sì, ma se questi temi reali poi devono diventare atti di governo bisogna vincere le elezioni. Questo è lo snodo cruciale. E come si mettono insieme queste due cose? C'è una ricetta? È una ricetta alchemica complicata, nel senso che fino ad oggi abbiamo visto che la sinistra vince quando riesce a costruire una serie di alleanze, di coalizioni, con forze che rappresentano la classe media. Oggi il grande problema che si trova di fronte alla sinistra, soprattutto nella sua versione più radicale, è da un lato lo spappolamento della classe media, dall'altro due problemi di ordine davvero generale. Uno ha a che fare con la rabbia. La sinistra radicale tende a canalizzare la rabbia e a riportarla all'interno dell'alveo istituzionale legalitario, diciamo così. Il problema è che oggi si trova a competere, da questo punto di vista, con una parte di ceto medio che è inferocito, una parte di classi popolari che sono scivolate ulteriormente in fondo, e tutto questo non trova nella politica un linguaggio che la ordina. E naturalmente ci sono imprenditori politici, imprenditori dell'Arabia, imprenditori del rancore, o anche imprenditori trasversali politicamente, in qualche modo post-ideologici, che riescono a prendere da tutte le parti. Allora quel pezzo che era tipico della sinistra radicale oggi è in qualche modo presidiato e scardinarlo è una sfida molto complessa. A proposito delle cose che diceva, a proposito dei temi che poneva il segretario di sinistra italiana, che sono temi fondamentali oggi del discorso politico, c'è un grande problema di fondo. Qual è? Quello delle risorse pubbliche. Non è possibile intervenire in questo ambito se non avendo risorse pubbliche. Allora, queste ricette che la sinistra radicale riprende sarebbero ricette tipicamente social-democratiche, in un'altra fase storica, ma hanno a che fare con la crisi dello Stato-Nazione, che si è fortemente identificato con la sinistra attraverso il welfare e lo Stato-Sociale, e dall'altro con la grande crisi fiscale dello Stato-Nazione. Recuperare quelle risorse per costruire forme di redistribuzione sociale oggi è molto, molto complicato. Ma c'è una... ma adesso... E poi facciamo vedere i margini del riformismo. I margini del riformismo sono finiti. Un elemento naturalmente tattico. C'è un sovraffollamento del mercato elettorale che rende complicato la sinistra. Però la domanda in parte mi hai risposto. La domanda è, questa sinistra, diciamo la sinistra sempre per comodità, lo diciamo a sinistra del PD, è una sinistra che ricorre alla vecchia cassetta degli attrezzi o è attrezzata con politiche e visioni nuove per fronteggiare i nuovi bisogni e le nuove istanze? Come sta rispondendo? Mi sembra che la fotografia dei temi sia la fotografia dei temi nuovi. Il problema è la praticabilità delle ricette, naturalmente. Sì, fra due anni. Qui c'è un punto che riguarda la cassetta degli attrezzi, vecchi temi, vecchie ricette. Quello che a me pare evidente è che quello che c'è di vecchio oggi, di assolutamente vecchio, è il ritorno indietro nella situazione materiale del Paese. Adesso, quando pongo la questione della riduzione dell'orario di lavoro, del reddito, di una capacità ripresa di investimento pubblico in settori strategici che abbiano anche la capacità di indicare quale Paese vogliamo, che pongano il problema di una conversione ecologica dell'economia, mettano in sicurezza il territorio, un territorio come il nostro, che dal punto di vista idrogeologico e sismico è un disastro colossale, non è che lo faccio perché prendo la cassetta degli attrezzi di 20-30 anni fa e dico, sto lì bello tranquillo, la patrimoniale mi mette in tranquillità. Lo faccio perché in Italia oggi, non nella fotografia di 20 anni fa, di fronte a una ricchezza privata di 8.500 miliardi, questo è l'ammontare della ricchezza privata patrimoniale degli italiani e degli italiani, 4.700 di questi 8.500, cioè più della metà, stanno in mano al 10% della popolazione. Non era mica così un po' di tempo fa? Allora, faccio una domanda semplice, sempre per stare al merito, visto che quando dico patrimoniale tutti, eh, la solita sinistra delle tasse. Siccome la Costituzione italiana parla di progressività, a proposito del sistema fiscale, dopo anni e anni in cui ai lavoratori, ai precari, ai pensionati, abbiamo chiesto, anzi hanno chiesto tutto e il contrario di tutto, ma con un'unica, diciamo, cosa coerente, togliergli un po' di reddito, un po' di diritti in più ogni volta, ma se chiedessimo a quel 10% che ha più della metà della ricchezza patrimoniale netta del Paese, lo 0,50 sarebbe una cosa inaccettabile da estremisti o sarebbe una realista proposta di redistribuzione della ricchezza? Anche per trovare un po' di risorse. È praticabile questa soluzione? È praticabile sì, basta farlo. È un po' complicato, perché è un po' complicato. È un po' complicato, però c'è un piccolo problema. Non si possa fare, ma è complicato. C'è un piccolo problema. Io non so se è chiaro, anche a proposito, diciamo, della condizione del Paese, del rapporto tra individui e corpi sociali organizzati, del rapporto con la rabbia. Abbiamo visto che è successo, anche in piazza l'altro giorno. E le caratteristiche di quelle mobilitazioni, oltre all'infiltrazione dei fascisti di forza nuova e delle violenze inaccettabili che ci sono state, è la caratteristica di una mobilitazione nella quale la rabbia diventa il tratto sempre più dominante. Allora, io la dico così, sarà anche complicato, ma o la politica torna a porsi il problema di un cambiamento radicale delle condizioni materiali di vita, della gran parte della società. Oppure, guardate, la dico così, noi andiamo veloci incontrano uno schianto della tenuta della nostra società. Questo è il problema. E per questo dico, Andrea, che il tema, diciamo, del semplice riposizionamento un pochino più in là, un pochino più a sinistra, un pochino più riformita, non funziona perché non ci sono più i margini per farli, sia sociali che economici. Dunque, anche rispetto a come si realizzano queste cose, è chiaro che poi ci vogliono alleanze, ci vogliono, diciamo, gli strumenti per renderle praticabili. Ma io non penso mica a una sinistra autosufficiente, che abbia il 3, ma avessi anche il 10, Maria Teresa. Non penso mica che quello che propongo si realizzerà solo quando sinistra italiana avrà il 51. Però poi adesso... Il tema delle alleanze si porrà. Maria Teresa, mi li ha fatto questa domanda. Vorrei che si ponesse sul merito e non sul Formula Strada. Ci vediamo un attimo, Bersani, qui sulla 7, l'altro giorno di martedì, in pratica ha pubblicamente dichiarato, il suo abbandono del Partito Democratico, l'ha fatto con i suoi toni, anche pagati, anche ironici, però è stato anche molto feroce nei confronti di Renzi. Sentiamolo. Lei non rinnova la tessera del PD. Lei non è più del PD dal 28 febbraio quando si rinnovano le tessere. Lei non è più del PD. Io non mi sento di scrivere al PD, non mi sento di partecipare a questo congresso, non vado certo via dal centro-sinistra, mi interessa recuperare un pezzo di popolo, certamente ci ritroveremo, ci rincontreremo, io non lo so. Però vedo come va, no? Quest'anno qui cosa succederà? Succederà che viene incoronato Renzi, tira dritto, senza discussione, come abbiamo tirato dritto, dopo la sconfitta delle regionali, dopo la sconfitta amministrativa, dopo il referendum, neanche una discussione e poi non lamentiamoci se arriva alla destra. Questo è il PD, qua si deve parlare, qua la politica ha un senso, non è quello che dici tu, siamo di meno adesso, ma in futuro saremo di più. Perché l'è passata questa voglia? Quella è la ditta. Se pensasi che tutto questo comunque, diciamo questa piega che ha preso quel partito, fosse comunque utile al centro-sinistra, a far vincere la sfida, a convincere i lavori, non sarebbe un problema a Bersani, eh? Ecco, io cosa dico la mia famiglia, cosa dico la mia gente, cosa dico la cosa? E cosa le dice la sua famiglia? Cosa le ha detto sua moglie, le sue figlie? Cosa le dicono? Io non sono più del PD, cosa le dicono? Alcuni di loro dicono che era ora, era ora, ma comunque, mi sono convinto che il PD di Renzi, vogliamo chiamarlo così, così come andrà avanti anche quest'anno con nuove investiture, non è in grado purtroppo di incrociare ormai quel pezzo di popolo di cui noi abbiamo assolutamente bisogno. Forse, forse, un movimento che nasca su problemi, appunto invece, ho detto prima, il lavoro, la scuola, il pubblico impiego, gli investimenti, le colle, eccetera, forse questo può recuperare al centro-sinistra. Guardate che, cioè, qui, quella destra lì, nel mondo, stanno mettendo cattivi pensieri in testa di lavoratori, operai, alle periferie, alla gente del popolo, autorevoli di chi interpreta e noi non possiamo non essere allarmati da questa cosa qua. Allora, Teresa Melli, quello che ti voglio chiedere è, in primis, che Italia ha in mente Renzi, secondo te? L'abbiamo visto in quello che ha fatto finora, cioè il Jobs Act, poi piaccia o non piaccia, ovviamente a Fratoianni non piace, per esempio, e a me piace, però è un progetto ed è un'idea che tu dai di quello che sarà, quello che vuoi fare è come ti immagini un paese, poi lasciamo perdere se piace o non piace, però è una cosa, la riforma costituzionale, che è il motivo per cui poi lui se ne è andato via, quella dava un'altra idea, cioè, per dire che lui non ha fatto nulla, ha fatto, poi ha fatto in maniera sbagliata, piace, non piace, eccetera, 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 ha semplicemente, la cosa che ha creato il vero, diciamo, sconquasso, è stato questa cosa del referendum, perché con la riforma costituzionale si cambiava veramente il paese, tant'è che una serie di anziani signori che erano ormai in disarmo, gli elenco sono diversi, Mario Monti, Romano Prodi, Massimo D'Alema, che prima tacevano e finalmente ce li eravamo dimenticati, appena è arrivato la cosa del referendum, si sono ringalluzziti, poi dopo il referendum, peggio mi sento, ma perché? Perché quello era veramente il discrimine, il non ha mai fuggito a Maria dell'Alema, l'ha dichiarato, ma non c'entra cosa hanno votato, non c'entra cosa abbiano votato, sto dicendo che quello era, veramente, si metteva il punto definitivo fra quello che era la vecchia Italia e quello che era la nuova, ci siamo tenuti la vecchia Italia e quello che ti voglio dire, non ciò, perché quello che ti voglio dire, Bersagno faceva capire bene, dice, se andrà a questo congresso, Renzi lo rivincerà, noi gli sfidanti, ricordiamo, lo principale sono il governatore della Puglia Emiliano e il ministro della giustizia Orlando ad oggi, vincerà e però rischia di continuare a perdere un pezzo del popolo della sinistra. Il popolo della sinistra dov'è? Con Bersani, al bar con Bersani, con D'Alema alla panchina del giardinetto, ma di che cosa stiamo parlando? Il popolo della sinistra sta da un'altra parte, il popolo della sinistra che non è più con il PD, è da tempo che non è più con il PD, ma è non certo non lo riporta Bersani e è assurdo, è ridicolo pensare che lo riporti Bersani, lo riporti D'Alema, lo riporti Stumpo, lo riporti chi volete voi, cioè già non ci sta più quel popolo, cioè il problema è riagganciare quel popolo, ma non lo si fa con le formule di Bersani che dice oddio ci sono i lavoratori, aiuto, c'è la destra e la destra di qua e la destra di là, che ne so, con Fassina che va a dire quanto sono fichi tassisti che fanno sigla. Però ci sarà un problema mi piace o non mi piace il Giobact, poi discuteremo anche perché piace o non piace, ieri l'Ips, ieri, ha dato un dato, nel 2016 i contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti sono calati del 91,18%, meno 91, perché sono calati? Perché il grande successo del Giobact era dovuto come i gufi avevano ampiamente detto anche in questo studio, vero Andrea? più volte e più volte alla decontribuzione alla droga e gli incentivi. Tanto per discutere di che cos'è il Giobact, una roba che ha tolto diritti e non ha provocato nessun incremento di posti di lavoro in questo paese perché da anni continuano a propinarci la balla, non solo Renzi, Renzi diciamo all'ennesima potenza, ma mica solo Renzi, che il problema del lavoro in questo paese si affronta continuando a lavorare sull'offerta invece che sulla domanda che è il vero problema dell'occupazione in questo paese. secondo, il referendum anche qui lo dico a Lameli non è che è arrivato qualche vecchietto che più o meno era in pensione per questo lo hanno perso, ricordo e segnalo che a votare contro quella pessima riforma costituzionale che avrebbe sì cambiato il paese in peggio sono stati l'86% dei giovani italiani se i giovani hanno detto no a quel referendum però pubblicità poi devo dire Marco Rizzo su questo temato devo fare anche un'altra domanda a Prato D'Ana pubblicità oggi ci sono problemi enormi come l'immigrazione di massa come la realtà di un vincolo europeo che impediscono il nostro sviluppo economico come una globalizzazione che uccide il lavoro e le imprese se non si esce da questi vincoli non ci sarà più ripresa economica non ci sarà più lavoro ecco perché noi crediamo nella sovranità nazionale e popolare un paese arrabbiato precario che però ha energie per guardare avanti il mio problema è che noi non possiamo più dipendere dagli altri nel mio progetto politico c'è prima gli italiani uno stato che controlla la moneta le banche e i confini nessuno da Bruxelles si deve permettere di dire tu devi approvare la legge Fornero che manda la gente in pensione a 67 anni ma chi sei tu per dirlo io decido per l'Italia in base alle necessità degli italiani la flat tax sito www.tassainica.it perché mi piace che la gente possa controllare quello che si dice e verificare se i numeri che diamo stanno in piedi o meno è un sistema che funziona in 40 paesi al mondo che riduce la giungla fiscale delle 37 aliquote deduzioni e detrazioni e fa un patto fra lo stato e i cittadini tu al 31 dicembre su quello che hai incassato non su quello che hai fatturato ma su quello che hai incassato mi dai il 15% così ti conviene pagare le tasse chi evade lo metto in galera e butto via la chiave ovunque sia applicata la tassa unica bassa lo stato incassa di più e i consumi ripari siamo in un momento del paese in cui reddito di cittadinanza aiuto alle piccole e medie imprese legge anticorruzione non sono più né di destra né di sinistra sono leggi di buonsenso che si devono fare e non passano più per vecchi partiti che dicono di essere di sinistra o di destra siamo in un paese che in questo momento ha 17 milioni di cittadini a rischio povertà 300 imprese che muoiono ogni giorno e abbiamo 11 milioni di cittadini che hanno rinunciato a curarsi per difficoltà economiche quello che devo chiedere a Marco Luizio è questo sentendo una serie di dichiarazioni di esponenti di destra e anche poi di Di Maio uno dei leader più importanti del Movimento 5 Stelle ma è la destra del Movimento 5 Stelle che oggi intercettano questi nuovi bisogni e propongono le loro ricette si sostituiscono a quello che faceva una volta le loro ricette di sinistra ci sono dei dati oggettivi l'Unione Europea la globalizzazione capitalistica non criticare queste cose uno di sinistra non può non criticarle poi questa è un po' fuffa perché ad esempio stavo proprio guardando le due facce Salvini e Di Maio che tuonano così poi entrambi sono andati in Israele cosa sono andati a fare in Israele? se io devo cambiare il mondo la mia società e ho la possibilità di arrivare io direi al potere perché il governo è un'altra cosa non vado alla City di Londra non vado in Israele perché vanno in quei luoghi lì? se chiedi poi differenza uno contro l'Unione Europea se l'altro gli dici uscite dalla Nato stanno fermi uscite c'entra il potere c'entra il potere nel mondo c'entra il potere nel mondo ma no nel mondo ho parlato della City ma di che sta parlando? Maria Teresa ognuno la pensa come vuoi tu la pensi così e io la penso così ma antisemitica ma antisemitica non lo sono mai stato lo scopri tu adesso sto dicendo che questi uomini dicono delle cose e poi non vanno al di là è fuffa elettorale perché ci sono i temi della precarizzazione della difficoltà del popolo a vivere poi per rompere queste gabbie devi avere il coraggio di fare un discorso compiuto dovresti uscire dall'Unione Europea uscire dall'Euro uscire dalla Nato scontrarti con i poteri veri e qua arrivo anche al riformismo ad esempio Nicola prima diceva ci sono queste grandi ricchezze 8 persone al mondo detengono la ricchezza di 3 miliardi e 700 milioni di persone perfetto ma non gli vai a chiedere di togliere lo 0,50 a parte questi non se lo fanno togliere se pensi un altro tipo di società questi qua non devono più esistere questa è la battaglia questa è la battaglia cioè devi pensare a una società devi pensare a una società in cui la redistribuzione è totalmente diversa io questo vorrei spiegare poi so di dire delle cose difficili oggi da pensare ma o pensiamo a una società dove il dio denaro non informa più tutto e oggi informa questo prima ne parlavamo con la Teresa Melli su cui non siamo d'accordo su tante cose ma se ad esempio i deputati guadagnassero 1200 euro al mese la scissione di D'Alema e degli altri non ci sarebbe perché è un problema di posti sono 100 posti 100 capilisti e se non ci fosse quello non ci sarebbe la scissione allora intendiamoci se noi pensiamo che il riformismo che negli anni 50, 60, 70, 80 ha ottenuto delle cose in Italia oggi quei marginali sono finiti non c'è più spazio e le classi dirigenti cioè quelli veri che governano il mondo hanno bisogno del populismo perché hanno timore che l'unica ricetta che nella storia ha cambiato il mondo è che è quella dell'Unione Sovietica della rivoluzione socialista dell'ottobre perché lì si sono messe le premesse per un mondo nuovo poi è fallita dall'interno dall'esterno sono 100 anni ammazzando un po' di gente ma il periodo è anche qua le battute infatti Stalin aveva controvendola non Hitler Mussolini scusami o la bomba atomica degli americani contano i contesti storici quando parlate di padre Francesco non parlate dell'inquisizione non parlate dell'inquisizione quando parlate di padre Francesco quindi quando parlate del comunismo o lo contestualizzate dite Stalin di fronte Hitler Mussolini la democratica america che buttava la bomba atomica per affermare la propria supremazia oppure parliamo così a vanvera ripeto ripeto o pensiamo a un mondo nuovo dove la redistribuzione delle risorse parte dalla ricchezza della tecnologia della scena oppure il riformismo non ha più spazi e le grandi classi dirigenti hanno bisogno del populismo perché indirizzano la gente in praterie il voto al 5 stelle è un voto molto pulito di gente che vuole il cambiamento e li portano nelle praterie della raggi cosa fanno suonano il piffero cosa fanno parlano dei vegani cosa fanno la sintesi un po' brutale di questo discorso era assegniamoci no 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 si possono fare delle battaglie qui e ora però bisogna avere di fronte la stella cioè non possiamo pensare che adesso prendo il 2% poi il 10% poi il 15% no bisogna fottersene di quelle robe lì tra l'altro se hai 10 deputati ti possono invitare a pranzo ma se ad esempio tu governi dei movimenti veri penso ai tassisti puoi bloccare la città di Roma puoi imporre delle cose puoi fare delle battaglie sociali giuste o qualcuno potrà dire sbagliate ma io credo che devi muoverti in un'ottica diversa dal punto di vista anche istituzionale in Italia la sinistra si è concentrata nelle percentuali una volta era l'1% grande vittoria meno 2% adesso di cosa stiamo parlando oggi conta più conta più Renzi ma scusate conta di più Renzi o Gentiloni la fotocopia Gentiloni o Draghi no questa è una domanda vera perché se no se noi pensiamo che tutto sto gioco serve ad arrivare a fare fra tuoi anni vuoi giocare a fare Gentiloni quando arriva ad essere Gentiloni scoprirà che c'è una persona che sta sopra che si chiama Draghi o la signora Lagarde del fondo monetario internazio che contano 100 volte di più e quindi cosa te ne fai di essere diventato Gentiloni sono la spectre sono peggio della spectre perché non li hai eletti nessuno perché non li hai eletti nessuno perché sono stati messi lì questa è la democrazia tra virgolette di oggi però poi vedremo se chi fa delle promesse elettorali le manterrà o meno si ma è come stare dentro Trump è quello suo in America Andrea è come stare dentro un bicchiere è come stare dentro un bicchiere la mosca nel bicchiere gira può stare a sinistra a destra sotto sotto ma stai nel bicchiere noi dobbiamo rompere quel bicchiere dobbiamo fare una proposta di società non una proposta elettorale non me ne frega niente se uno prende il 3% il 5% un orizzonte rivoluzionario si può dire il 25 di marzo quando vengono i signori del mondo qua a Roma a festeggiare i 60 anni dei trattati di Roma faremo un grande comizio popolare dove diremo tutte queste cose perché bisogna come si può dire forzare tentare di cambiare adesso facciamoci aiutare Massimo Panadari però quello che dice Rizzo è testimonianza e lì si ferma voglio dire alta è importante di prospettiva di visione ma resta una testimonianza se è confinata la vedremo come dire per fortuna anche per fortuna aggiungo io per fortuna dice la mente già questa è una nota di merito già questa è una nota di merito che fa Grillo e Rizzo è evidente questa è una prospettiva antisistemica anticapitalistica diciamo con una lettura delle relazioni internazionali nel caso di Israele a mio giudizio è piuttosto discutibile è chiaro che non si gioca nel campo nel campo elettorale non si gioca nella battaglia politica io penso che ci sia un grande spazio per il riformismo invece ecco il tema è che il riformismo non può essere senza riforme ma deve intercettare e costruire delle riforme rispetto ai settori di elettorato per cominciare devi identificarli devi identificarli con precisione questa è una vecchia diciamo lettura della sinistra l'analisi di un signore con la barba che si chiamava Karl Marx puntava ad un'analisi molto tra virgolette scientifica della società e identificava chiaramente quelli che oggi chiameremmo i segmenti elettorali a cui rivolgo ma la società adesso si intreccia si incrocia cambia si cambia è mutevole è molto è liquida non lo so precisamente è liquida è metamorfica però bisogna identificare delle proposte precise dei target precisi quello che non riesce a fare la sinistra a proposito delle dichiarazioni dell'ex segretario Bersani che diceva il popolo i lavoratori il pubblico impiego tutto questo è troppo generico tra l'altro nel caso italiano mi permetto di aggiungere che a volte c'è un eccesso di equazione tra alcuni residuali corporativismi che in questo paese molto corporato non fanno bene e l'idea del popolo certe categorie non sono esattamente il popolo difendono con le unghie con i denti i loro interessi i loro interessi alcuni legittimi assolutamente altri invece frutto di stratificazione di privilegi o di cattiva legislazione al riguardo e questi non esauriscono naturalmente il popolo invece sono dei serbatoi perfetti per il populismo per l'appunto allora la sinistra dovrebbe sganciarsi dal populismo nel senso che non esiste il popolo in quanto tale questo è evidente esistono ceti sociali gruppi che hanno interessi diversi la società è un campo di forze è un luogo conflittuale da sempre il potere o i poteri sono tanti o giocano anche loro partite diverse per questo che non esiste un aspetto uniforme per l'appunto allora deve cercare di identificare i nodi fare alleanze e soprattutto fotografare precisamente la società a mio giudizio è anche grande bisogno però per mettere in campo delle ricette di risorse pubbliche e qui sta il grandissimo problema perché gran parte delle risorse pubbliche è uscito recentemente un libro molto interessante di un economista francese che si chiama Gabriele Zucman che dice che 2600 miliardi di dollari europei sono collocati nei famosi paradisi fiscali allora il primo tema diventa naturalmente quello di mettere in campo delle politiche che recuperino l'evasione e l'illusione fiscale e che per fare ridistribuzione siano in grado ma qui sta la parte enormemente pubblicata noi appena ieri abbiamo fatto vedere un servizio dalla Sicilia Italia 2017 52 miliardi da recuperare in 10 anni di tasse mai recuperati con evasori tutti dai grandi proprietari delle piattaforme petrolifere al piccolo abusivo a chi gestisce l'ortofrutta tutti con il problema anche di andarli a recuperare di che stiamo parlando ma infatti c'è un tema di efficienza anche dello stato della macchina pubblica su cui la sinistra non è una cosa che voglio chiedere così andiamo in pubblicità perché Fratoiani ci ha spiegato una serie di cose e ha anche detto poi dobbiamo allargare questo campo e elettoralmente magari allearci quando sarà col partito democratico ma è alleabile sinistra italiana guida Fratoiani col PD di Renzi? questo è il grande gioco della politica spetta innanzitutto ai segretari è chiaro che per vincere per andare al governo non è alleabile possiamo dire la verità non è alleabile credo Fratoiani ma io non ho detto naturalmente a seconda della legge elettorale che ci sarà naturalmente ecco ecco senza però non parlo diciamolo che dire quando ho parlato diciamo delle alleanze l'ho fatto a partire da diciamo da un elemento di consapevolezza che ha anche a che fare con un'attitudine culturale con la quale diciamo uno si avvicina alla discussione pubblica alla discussione politica io per esempio sono un estimatore un difensore del proporzionale e penso che è arrivata l'ora finalmente spero di farla finita con la stagione del capo solo al comando delle coalizioni con il più maggioritario che mettono insieme tutto il contrario di tutto per arrivare ad una soglia e poi fanno il contrario di quello che hanno promesso penso che serva un proporzionale che consenta e obblighi le forze politiche a presentarsi sulla base di un programma chiaro e che poi le obblighi anche in Parlamento a discutere a verificare le convergenze che non vuol dire alleanza a prescindere o per forza su tutto ma magari su singoli punti perché penso che la democrazia sia conflitto parola di cui va recuperato il valore e la rimozione del conflitto è un pezzo della crisi della politica anche nel partito democratico di questi anni il fatto che il conflitto sia diventato un problema invece che un valore conflitto regolamentare conflitto e poi anche mediazione confronto in questo paese confronto mediazione sono diventati inciucio tanto per essere chiari io penso che su questo vada fatta diciamo un'operazione di restituzione del valore delle parole e anche della cultura politica ma il punto è che le alleanze di merito specifiche generali devono tornare a fondarsi sulla proposta politica che non vuol dire che le mie proposte per allearmi con qualcuno devono essere solo le mie le deve prendere tutte e pazienza ma il punto è qual è il terreno su cui si ricostruisce un'ipotesi di paese adesso poi qui sono venute fuori a riformismo adesso dice Panerari riformismo però con le riforme possiamo dirci anche qui una cosa è vero o no che negli ultimi anni negli ultimi anni forse da qualche decennio a questa parte perfino le parole hanno cambiato di segno riforma nella storia di questo paese è una parola che ha una tradizione positiva fino a un po' di decenni fa ormai molti decenni fa quando arrivava una riforma un cittadino anche senza sapere cosa c'era scritto dentro quella riforma una cosa la capiva che quella riforma gli avrebbe portato qualcosa di positivo un allargamento di diritti qualche salario in più un po' di dignità in più oggi in questo paese nel 2017 quando il telegiornale annuncia una riforma i cittadini prima di sapere che c'è scritto cercano un tavolo dove nascondersi perché una cosa l'hanno capita che quando arriva la riforma gli tolgono diritti salario e dignità questo mi pare è un problema a cui dovremmo provare a rispondere pubblicità sotto corona col meteo e poi ricomincio da Maria Teresa Meli tra poco buongiorno ecco la situazione prevista per le 12 di oggi queste perturbazioni queste linee colorate in parte ancora interessano il sud ma fra queste e le altre che potrebbero scendere sull'Italia si è formata una fascia di alta pressione che per un poco per un paio di giorni ci difende vediamo cosa succede per quello che riguarda le precipitazioni oggi non vi spaventate troppo da queste sulle regioni centrali perché si attenuano abbastanza rapidamente quelle al sud sono deboli o moderate quelle intense si sono mantenute fuori insomma almeno oggi dal nostro territorio diciamo la parte interessante è che domani guardate rimane soltanto qualche debole pioggia al sud sulle altre zone tempo stabile lunedì ancora tempo stabile però si riaffacciano appena appena un po' di nuvole qualche pioggia fra Liguria e Alta Toscana martedì ci sarà un altro passaggio non di maltempo forte però è un tempo che non si mantiene stabile a lungo d'altra parte il calendario questo vorrebbe vorrei segnalarvi intanto un numero 45514 e poi c'è questa definizione la terapia ricreativa all'obiettivo dello svago e del divertimento anche soprattutto di stimolo per le capacità dei bambini di rinnovare la fiducia e la speranza parliamo di bambini malati di malattie rare di malattie croniche che sono neurologiche onco ematologiche diabetiche sindrome rari patologie reumatologiche di questi bambini si occupa l'associazione la Unlust Dynamo Camp il numero è quello che vi ho detto l'obiettivo è di far fare a questi bambini delle vacanze di terapia ricreativa quindi nel momento che si divertono ci deve essere anche lo stimolo ci deve essere il tentativo di stare bene perché quando uno è malato la cosa peggiore come sapete è quando come si dice volgarmente si butta giù i bambini tendenzialmente non lo fanno ma noi dobbiamo aiutarli Dynamo Camp lo fa l'iniziativa è questa e associata a questa iniziativa se mandate un sms a 45514 poi potete inviare c'è una specie di gara mettiamoci le virgolette di fotografie mandate la foto di un abbraccio a quello che amate di più può essere un albero un cane una persona ovviamente anche un gatto se volete e queste foto poi verranno raccolte appunto sui social network un sms a 45514 grazie grazie a Dino Camp vado da Maria Teresa Meli preceduto da Orlando Orlando che l'altro giorno così ha annunciato la sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico sentiamolo sì ho deciso di candidarmi perché credo e non mi rassegno al fatto che la politica debba diventare soltanto prepotenza ho deciso di candidarmi perché credo che ci voglia responsabilità ho deciso di candidarmi perché credo che il Partito Democratico debba cambiare profondamente per poter essere utile davvero all'Italia e ai problemi degli italiani che in questo momento stanno vivendo momenti molto difficili numero 10 la maglietta da attaccante quindi è deciso a vincere è certo che è deciso a vincere quindi si candida per vincere si candida per vincere di rosso come le vede no no qui dobbiamo avere 50 sfumature di Partito Democratico non di rosso dentro il Partito Democratico ci deve essere anche il rosso ma noi dobbiamo rifare il Partito Democratico che abbiamo sognato dieci anni fa che dobbiamo lavorare per per evitare che la politica diventi soltanto risse soltanto conflitti soltanto sconti tra personalità ma che torni ad essere una grande bella occasione di vivere insieme e di lavorare per la trasformazione dell'Italia ci sarà anche una donna con lei ci saranno in tanti con me e ora vedremo come organizzarci grazie allora mi ha detto Teresa Meri voglio chiederti questo con la discesa in campo di Orlando cito ieri la Bindi ha detto per Renzi criticando ovviamente la tempistica di Renzi insomma a tempi molto molto veloci ha detto per Renzi non sarà una passeggiata e l'altro sussfidante chepiliano ha detto ecco la discesa in campo di Orlando sarà un problema per Renzi cito anche un sondaggio ieri di Xè a proposito del gradimento dei contendenti Renzi è in calo ma lo vorrebbe il 56% di nuovo segretario Orlando è al 15% Emiliano al 9% come la pensi tu rispetto a questa io la penso no prima volevo dire una cosa rispetto a quello che aveva detto Fratoianni sull'alleanza no sì che diciamo proporzionale questo innaproporzionale che democrazia è anche avere un governo che governi diciamo con questo simpatico proporzionale io non so se avremo mai un governo che governi ho il terrore che l'unico governo che avremo sarà un governo Lega e 5 Stelle ma allora forse io emigro e diciamo per quanto riguarda Orlando se prenderanno più voti se gli altri faranno proposte poco complesse e anche grazie al fatto che la sinistra si spacca si metteranno insieme e Orlando secondo me invece è una grande mano a Matteo Renzi assolutamente sì io ho trovato un pochino diciamo di chi non conosce bene il PD e ho anche caricaturale l'idea ah perché arriva Orlando quello non prende il 50% quindi poi non vanno alle primarie devono andare al congresso cioè Orlando gli garantisce l'unica cosa che Matteo Renzi voleva che gli fosse garantita cioè il fatto che quel mondo che è ex PC ex DS come lo vogliamo chiamare rimanga dentro il partito che era la cosa fondamentale che voleva Matteo Renzi cioè a Matteo Renzi io immagino l'idea che se ne andasse Bersani D'Alema eccetera eccetera gli hanno fatto un favore immagino se stava anche contento perché almeno non li rompevano le scatole un giorno sia l'altro pure ma l'idea di perdere quel mondo di sinistra quello sì che lo temeva e l'idea che invece ci sia Orlando che non gli viene garantita da Emiliano perché Emiliano è un altro tipo di candidatura Emiliano è un populista un masaniello uno che può pescare voti a 5 stelle è tutta un'altra storia perciò il fatto che ci sia Orlando e il benvenuto perché poi Emiliano quando perderà se ne andrà per altri liri se ne fregherà non credo che sarà là presso il partito mentre invece Orlando sarà una persona che vinca o che perda sia che sia maggioranza sia che sia minoranza che contribuirà a far andare avanti il partito democratico allora Pallaradi cito un altro dato di un sondaggio sempre di ieri SVG dove la somma diciamo dell'area di sinistra di cui si parla toccherebbe quota 9,4% sotto il 10% lo ricordiamo magari a chi non ha seguito questi numeri la quota qual è 3,9% alla formazione di Pisapia a campo progressista 3,2% a Bersani D'Alema Rossi Speranza diciamo coloro che se ne vanno dal partito democratico 1,5% a sinistra italiana sotto il punto 0,8% rifondazione comunista questo mette insieme sono ovviamente sondaggi molto presto per avere dati diciamo più consolidati forse più attendibili chiedo a te si diceva nella Francia miterandiana che un decimo dell'elettorato andasse sostanzialmente a quelle sigle che stavano tra il PSF cioè il partito comunista francese e i trotschisti che si organizzavano in liste in qualche modo è come se quella diciamo se quella quota venisse venisse garantita anche in una situazione di spinte antisistemiche enormi mi sembra una fetta rilevante naturalmente immagino che gli attori della sinistra radicale vogliono allargare questo spazio e però devono contenderselo con i populisti che è la parte complicata è chiaro che quando si fa un'offerta elettorale un sovraffollamento di sigle rappresenta un problema e c'è un problema di eccesso da questo punto di vista di offerta che andrebbe semplificata molte sigle e non c'è un leader alle viste c'è non c'è chi è il leader io penso che per il tipo di elettorato che si rivolge alla sinistra radicale un leader unitario non sia così importante però se vogliono allargare naturalmente la platea di elettori potenziali un leader unitario consenterebbe di andare oltre gli steccati e ricinti e di diventare un tipo di offerta elettorale molto competitiva molto più competitiva quantomeno e allora abbiamo finito guardavo Rizzo abbiamo finito il nostro tempo abbiamo discusso molto di tutti questi cantieri aperti oggi abbiamo parlato dei cantieri aperti a sinistra inevitabilmente abbiamo parlato del PD adesso in una prossima puntata ci occuperemo come già abbiamo fatto in passato del cantiere di centro-destra perché è un altro cantiere da osservare con grande attenzione grazie e buona domenica ci vediamo lunedì alle 9.40 con Coffee Break e buona domenica